e dai piano piano piano, uno, due, non basta, basta, aspetta, 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 alza un po' più alto si copisco, e va a chiedere, e forte e' loggio corto, e' loggio corto, e' loggio, come questo ora è concreto, così qua e' loggio e' loggio e non abbassare che non cambiano e non cambiano Grazie a tutti